questo canale sta diventando un troiaio di voi tila poiché ho deciso di aprire gli abbonamenti per quale motivo il motivo è semplice sostenere il canale sostenere le mie attività poter fare nuovi progetti e poter acquisire i componenti necessari per fare questi nuovi progetti e a tal uopo ho aperto quattro modelli di sottoscrizione per nuovi membri e sottolineo membri abbiamo quattro livelli fancy victoria socialismo lui superfettazione e gotowi fancy fancy avranno dai badge degli emoji che sono quei cosi la è una risposta prioritaria ai commenti che cominciano a diventare veramente tanti mi rubano molto tempo il livello vittoria socialismo lui invece potrà potrà vedere video in anteprima avrà i ringraziamenti a fine di ogni video e poi potrà accedere a dei backstage delle foto degli status speciali che solo lui potrà vedere victoria socialismo lui poi abbiamo il livello superfettazione e questo darà accesso a un canale telegram riservato a un sopporto tecnico per cui potrò rispondere a vostre domande e quesiti tecnici farò del mio meglio ovviamente io non sono non so tutto e poi ci saranno dei sondaggi solo per voi i superfettati del livello superfettazione per finire abbiamo il livello master il livello gotowi gotowi video speciali senza censura e detto questo vi ringrazio e vediamo come va sta storia io non lo so sinceramente non lo so ciao